Ciò che io vi sto facendo vedere in questo momento sono alcune coppie di cani che io ho preparato di cuccioloni che ogni estate metto da una parte. Perché? Perché adesso che finiscono praticamente le ferie e che le persone arrivano a casa, intanto a qualcuno che era senza cani, come succede tutti gli anni, le hanno rubato, le hanno svaliggiato tutto all'interno della loro abitazione e di conseguenza iniziano a dar più credito alle mie parole e volersi attrezzare con i cani da guardia. Ma non solo, anche quelli che volevano iniziare questa avventura con i cani da guardia anti-intrusione, molti si levano il cruccio, fra virgolette, delle ferie che non sapevano a chi affinagli e iniziano da settembre. Ed è il motivo per il quale io preparo queste coppie dove metto già maschio e femmina insieme che iniziano a lavorare insieme, iniziano a conoscere per quando io li trasferisco, questo mi dà la possibilità di inserire queste coppie di cani nell'arco di pochissimi minuti con i nuovi proprietari attraverso un sistema che ormai ho collaudato. Ma la cosa più interessante è che la coppia, come lavora da me, inizierà poi nell'arco di un giorno, massimo due, a lavorare dai nuovi proprietari e quindi a dare quel servizio per il quale loro hanno deciso di adottarli. Quindi cani garantiti per la guardia al 100%. Ma questo filmato io non ve lo sto facendo per dirvi che ho queste coppie disponibili, perché io ho sempre molti cani di tutta l'età, l'allevatore è il mio mestiere e di conseguenza quelli che mi hanno contattato quando sono venuti da me, ho potuto sempre dare cani giovani se li volevano, cani addirittura quasi adulti e cuccioloni pronti, fra virgolette, all'uso come questi. Questo filmato io ve lo faccio però per un altro motivo, perché se voi volete adottare i miei cani da guardia, io non vendo cani a chiunque, a chiunque li tenga in qualsiasi posto, quindi vi sto facendo vedere quale è l'ambiente nel quale io li faccio crescere. Vedete in terra c'è appunto il prato, poi stanno all'ombra degli alberi, hanno la loro acqua fresca, hanno un bello spazio in cui muoversi e anche laggiù a volte dove ci sono persone che li devono inserire nell'azienda e che hanno quei bei piazzali di cemento sanno già i miei clienti che se vogliono adottare i miei cani devono costruire delle aiuole dove riportano la terra perché il cane senza terra non può vivere. Ecco vi dico questo perché l'ambiente per la crescita ideale dei cani è molto importante. Molti sono fissati di creare quei box col fondo in cemento, chissà perché, ma dove è che sta peggio un cane che sul cemento? Quindi a quelli che hanno solamente i cortili e che non hanno la possibilità di creare un minimo di spazio verde, io non posso cedere i miei cani perché i miei cani sono autentici cani da pastore che amano e desiderano vivere in un ambiente che sia consono alla loro natura. Con questo si ottiene il massimo della loro salute, il massimo della loro realizzazione sotto il profilo animale e anche se sono predisposti il massimo rendimento per cosa riguarda il servizio di guardia che noi desideriamo. Quindi questo filmato ve l'ho fatto per dire se volete adottare i miei cani innanzitutto predisponete l'ambiente idoneo perché io a quei cortili, a quei posti dove hanno il piazzale in cemento e il cane fanno finta che non abbia bisogno della terra, dell'erba, degli albi ed eccetera non li posso cedere. Stessa cosa se per caso state costruendo in questo momento dei box di servizio non dimenticatevi mai di lasciare terra o al massimo ghiaia perché non c'è posto che sta peggio il vostro cane quando è rinchiuso nel cemento senza calcolare che il cemento è corrosivo ed è irresponsabile di molte tumefazioni che poi avvengono nelle giunture degli arti dove il cane inizia a perdere il pelo per non dire che inizia a avere dei rigonfiamenti. Ok con questo filmato è tutto e vi auguro buona giornata spero di avervi dato delle indicazioni importanti se voi volete tenere a casa vostra dei cani da pastore che non hanno nulla a che vedere con molte razze di cani da compagnia e quindi che si possono adattare anche in altre condizioni. Ok vi saluto buona giornata e a presto